Ecco Mona, una ragazza curiosa che vive mille avventure insieme al suo amico speciale Sketch. Sketch non sa parlare, ma sa disegnare benissimo. Un astronauta, un subacqueo o uno strepitoso mago. Inizia una grande avventura! Qualunque cosa Mona desideri, Sketch è sicuro di far avverare i suoi sogni. Mona e Sketch, tutti i giorni su Baby TV. Baby TV